ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra puntatella dedicata ai vostri orologi che ci fa tanto piacere perché possiamo vedere nuovi nuovi non sempre nuovi possiamo vedere tanti orologi alcuni dei quali magari poco visti oppure un po dimenticati no tanto per tornare al concetto di orologi dimenticati ecco in questa in questo tipo di video si vedono tanti orologi quindi c'è la possibilità o probabilmente la probabilità di vedere qualcosa che era sfuggito e magari accendere la nuova scimmietta sulla spalla no da dargli la nocciolina e funziona così poi il budget è quello che dipende da la disponibilità economica no si vedono orologi economici quindi è giusto mettere anche quelli in modo da dare la possibilità a tutti di poter bramare quel dato orologio e orologi costosi che piacciono quasi a quasi tutti ma non quasi tutti non possiamo noi tutti quasi no quindi volevo dire il concetto come partecipare lo sapete in orizzontale il video ho sette minuti al massimo dai cercate di fare un video conciso veloce spiegato in modo che io posso metterne di più perché se mi fate video da dieci minuti ne metto due ne metto tre e poi dopo basta ci annoiamo in una puntata cosa facciamo l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo cartier santos il mio orologio della domenica diciamolo così anche se non è domenica è il mio orologio mi piace mi garba orologio di forma quadrangolare con il quadrante blu i numeri romani questi questi infingardi si sono infilati sul quadrante ma d'altronde il santos deve essere così è con la lunetta lucidissima che mi viene in mente una cosa a proposito di lunetta lucida che ultimamente ho visto le lunette lucide in tungsteno che sono antigraffio no non si graffiano uno passa sopra anche un coltello non si graffiano ecco perché non fare queste lunette qua lucide così utilizzare come fosse un materiale no standard una lunetta lucida così deve essere in tungsteno perché questa qua in acciaio così lucidato si graffia si graffia solamente a mettere una mano in tasca o a vestirsi veramente è veramente facile va bene delicata ecco termine delicato detto questo la barra spaziatrice vedo che lì che ci aspetta e noi non facciamo altro che prenderà a colpi perché ci piace tanto dagli colpi con l'indice però fuoco buongiorno davide ciao marco da piacenza marco a tutti gli amici del canale ok volevo presentare una parte della mia collezione di orologi più precisamente tutti quelli che non sono di marchio patek rolex e odemar piguet per ognuno dei quali magari in futuro farò ai video dedicati partiamo subito con classico tudor black bay 58 cassa da 39 molto comodo anche da portare ci piace godibile 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 secondo orologio che volevo presentare eccolo qua questo panerai un lumino gmt gmt e una carica manuale con riserva di carica di otto giorni è un'edizione limitata questo è il numero 764 di mille e questo ha una storia un po particolare questa qui mi è stata regalata da dalla mia compagna ed è quello che ha dato inizio a tutta la mia collezione perché io per 25 anni ho sempre tenuto con me al polso un rolex submariner e non ho mai comprato nient'altro per il problema di dover gestire più orologi quindi cassette di sicurezza e quant'altro problema nel momento in cui mi è stato regalato questo ovviamente partita la pazzia ora un panerai gmt ecco ora io dico sempre no uno si deve prendere il panerai che vuole quello da 40 mm va benissimo quello da 100 metri va benissimo colorati no però onestamente parlando poi il panerai gmt lo vedo un po no senza senso vabbè comunque anche gli altri dovrebbero essere senza senso no se poi tiro fuori la spada e faccio il detentore della verità però panerai gmt solamente per il fatto che a parità di livello no con lo stesso modello solo tempo costa di meno quello solo tempo mi piglierei quello solo tempo gmt non è che mi serve molto poi un panerai gmt voi dite voi cosa pensate però questo è un altro panerai submersible 300 metri di profondità è anche lei anche questo un'edizione limitata ma sappiamo che le edizioni limitate si spregano con panerai e invece gli altri non è un ultimo acquisto che ho fatto questo l'ho preso da poco e l'ho preso per ovviamente per utilizzare certo al mare bravo ottima leggibilità certo questo è il tagoia acqua racer profondità 200 metri con questo nuovo quadrante questo rosso rubino lo trovo particolarmente carino sempre da utilizzare in spiaggia e bello perché anche questo ha un profilo abbastanza sottile e quindi molto facile ci piace il tagoia acqua racerci piace molto bello passiamo ad omega questo è un remaster l'edizione del sessantesimo anniversario della trilogia fatta nel 1957 trilogi sarebbe l'edizione uscita nel 2017 che prevedeva si possono comprare anche singoli ma nel suo cofanetto generale prevedeva il rail master lo speed master e il seamaster tutti con questa foggia così un pochino che ricorda con gli indici ingialliti no belli tutti e tre veramente tutti e tre belli ma il rail master dei tre è quello più bello rispetto a quelli di serie soliti mettiamola così movimento 8806 che resisteva fino a 15 mila gauss e anche questo un'edizione limitata numero 2967 di 3557 esemplari bello perché ha questo stile un po vintage e lo trovo molto molto carino molto carino molto carino molto carino sempre di omega abbiamo questo 007 è lo 007 con tutto in titanio titanio grado 2 con braccialetto in maglia milano trovo che sia uno dei più bei orologi della mia collezione io lo trovo veramente comodo e bello da indossare certo guarda che gli orologi che c'è che sfilza poi passiamo eccolo lì come questo bianco alla cartier santos questo c'è poco da dire elegante sportivo nello stesso tempo penso sia veramente un orologio che ecco di questo devo dire una cosa bisogna 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 provarlo al polso perché io l'avevo visto in una vetrina non mi convinceva una volta provato al polso è diventato mio bello è bello ci piace gonfia questo zenith cronomaster sport lo trovo davvero stupendo anche se so che a te non fa impazzire perché no bello anche il movimento a vista il fondello a vista e trovo che sia uno dei crono più azzeccati di sempre anche se ricorda molto ovviamente il il daytona non è che mi fa impazzire non so non mettetemi in bocca le parole che non ho detto cioè preferisco sicuramente il cronomaster tradizionale allo sport questo qua con la lunetta in ceramica no preferisco quello senza lunetta perché mi ricorda maggiormente il classico è il primero che ha fatto la storia cioè tutto lì il discorso questo qua è un po troppo sportivo sport sport sportivo capito ma non è che non mi fa impazzire beh a tutti che ce l'hai bravo sempre di zenith gonfia abbiamo il defi e in questo caso è la versione scheletrata bravo e con tutto fatto in in ceramica quindi ultra leggero e molto molto resistente ai graffi allora io ho provato al polso quello nella versione tutta nera così ma con quadrante non scheletrato era tutto nero ma con quadrante è veramente nonostante nonostante io gli oroggi di colore nero tendo a snobbarli un po no pvd o ceramica nera tendo un po snobbarli poi si va a periodi non sono come van gogh c'è il periodo x il periodo y io sono così quello lì nero ripeto che ho provato io mi stava veramente bene era veramente quasi da capito questo è un altro gran bel pezzo gran bel pezzo certo poi poi passiamo dubbolo questo è un rublo red magic viene chiamato è un'edizione limitata questo è il numero 69 di 250 esemplari e questo qui diciamo che ho visto per caso un video su come hanno dovuto fare la lavorazione per dare questo rosso acceso alla ceramica una cosa molto difficile hanno fatto addirittura dei brevetti quelli di hublò e dopo aver visto questo video che mi ha affascinato sono corso e me lo sono prenotato per averlo a tutti i costi ora io gli ho dato il top quindi lo riconosco come orologio sublime sopraffino chiaramente non mi piace in questo mio periodo van goghiano non mi piace però gli riconosco il valore tecnico e di pregio poi soprattutto come dici te a volte si tende a snobbare determinati orologi determinati marchi fino al momento nel quale poi si va a vedere o ti capita di vedere come lavorano cosa fanno cosa creano i brevetti che ci mettono e allora poi cambi cambi un pochino idea diciamo cavolo questi quasi sbattono ora solamente perché a me non piace questo design così moderno così contemporaneo allora lo devo trattare male tra virgolette no ti vengono questi dubbi chiaramente ognuno deve far forza sulla propria sul proprio gusto sulla propria personalità nello scegliere l'orologio quindi se uno dice non mi piace non lo voglio mi fa schifo va benissimo però tutto quello che c'è dietro ci fa comprendere poi che sono signori orologi e tanto di cappello continuiamo con gonfia allora giral per euro laureato però un orologio che secondo me è tra i più belli della collezione fondello a vista grande portabilità questo quadrante particolare con questi puntinati che è veramente molto bello e molto molto leggibile in qualsiasi condizione sì sì questo è un un marchio indipendente fatto in collaborazione con alain silberstein questo è un'edizione limitata di questo è il numero uno di 178 pezzi completamente tutto in titanio grado 5 brutto dietro come è brutto il fondello dietro ragazzi guardate lì che effetto oblo obrobrioso non capisco o al calibro piccolissimo la cassa grandissima perché non l'ho mai visto un un effetto oblo così su un meccanismo svizzero cioè un ciambella non lo so potevano farlo tutto pieno quel punto lì ma io non so nemmeno che calibro è cos'è il calibro è un sellita sv266 trattino 1 barra 1 266 è una cosa così simpatica sì ma l'altro sempre un altro marchio indipendente oh è questo trilob nuit fantastic al calibro è un calibro eccentric sviluppato dalla cercle des orologi e praticamente funziona il con tre cerchi concentrici che girano in senso anteorario e all'altezza del logo di trilob e dei cerchiolini vengono visualizzate in quello più esterno le ore in quello leggermente più interno i minuti e quello continuo i secondi sono le sei dieci vedere ecco come si muovono capito e come viene interessante da simpatico questo è il calibro il calibro non lo so niente ti ringrazio per per questa possibilità di mostrare tutti qui tutta la mia collezione e a presto magari ti mando altri video ecco rock perché hai detto tutta la collezione poi prima hai detto che ci avevi altri patechi rolex guglia de mar quelli lì no che c'erano tutti e allora non ce le hai fatti vedere ci hai fatto vedere questi mi sembra di capire che se benestate diciamo così che c'è la grana come come direbbero in francia tutti i belli orologi veramente di gusto questi quando passavano dicevano ma è proprio una malattia cioè quella che ho anche io perché quando mai si riescono ad indossare tutti questi orologi lo prendi proprio per avere il gusto di avere lo zenith in ceramica per avere il primero per avere per avere quell'orologio lì perché altrimenti siamo malati belli tutti belli una sfitta dei top ti sei beccato l'ultimo lì simpatico con le cose che girano che sembra luna park simpatico però anche lì cioè io ti capisco ecco ti capisco se se uno ha 100 orologi tra cui tutti i rolex tutti edamark piguet patek gli zenith e quello che ti pare a te a ogni tanto si vuole anche andare a divertire con luis herard con alain silver stang lì come si chiama silver stang o con quell'altro lì che con le ruotine che girano trilob va bene ti capisco perché a un certo punto ce n'hai gli scatoloni pieni e dici ma fammi un po prendere qualcosa di diverso no io non ci riuscirei mai a prenderlo così simpatico e trotterellante un orologio così va bene dai comunque direi che sei promosso cioè se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica ora otaccia per sempre nei commenti prossimo video ciao davide ciao sono sam da los angeles qui con me c'è la persona che mi ha introdotto ai tuoi video da quel disgraziato giorno praticamente sono stato rovinato perché ho fatto il recupero di tutti i video precedenti quasi e da allora ti seguo cos'è circa sei mesi più o meno bravo non ci perdiamo mai i tuoi video grande come di consueto complimenti per il canale partiamo con la collezione sono cinque pezzi più uno extra che è stato un po più un acquisto compulsivo che dopo vedremo la collezione i pezzi quando sono stati diciamo messi in collezione sono stati pensati ed acquistati per essere usati in maniera differente o per delle caratteristiche differenti o semplicemente perché mi piacevano va bene partiamo con il primo in ordine cronologico se escludiamo i vari casi o quant'altro di quando eravamo piccoli un submariner rolex 166 10 5 5 cifre un orologio che conosciamo tutti 16 610 è un orologio che ho ereditato da mio padre a 18 anni era il suo everyday watch l'usava in vacanza per fare le immersioni e da lì diciamo anche nata un po la mia passione per per i diver che sono i miei orologi preferiti è un classico niente niente da dire su questo fa il suo come sappiamo e passerei all'orologio successivo certo quale sarebbe che è questo ecco fatto goffia dei just 160 126 234 36 mm un orologio è il primo orologio che mi sono acquistato con i miei soldi con i primi risparmi diciamo dopo qualche anno di lavoro e volevo un orologio elegante in oro ma che non fosse oro giallo che sul mio polso e col mio tonalità di pelle non sta bene e avendo lavorato in un ambiente in indossare l'abito giornalmente questo era un orologio praticamente perfetto per le mie esigenze bello assai lo adoro ancora adesso il bracciale penso bracciale più comodo e bello che ci sia in assoluto vedrete qualche qualche graffio ma fa parte dell'usare gli orologi e anche il loro bello ecco diciamo e diciamo basta su successivamente acquisto abbastanza recente eccolo la lo vedo un orologio che conosci bene perché è uguale a quello che hai semplicemente il quadrante differente questo bright in cronomat da 40 mm bracciale e questo orologio l'ho preso perché sono passato da breitling ho visto un tuo video sono passato in breitling cercavo un gmt esplicitamente perché vivendo all'estero volevo avere un secondo fuso orario sull'orologio bravo come se servisse in realtà ma diciamo era un vezzo ecco avere l'orario italiano sul secondo fuso orario in modo tale che sapessi sempre che ore fossero a casa mia e quando ho visto questo quadrante verde onestamente mi ha stregato il bracciale è veramente come dici tu è veramente stupendo e comodo molto comodo anche anche al polso peccato per la falfalla anzitutto mette con la chiusura falfalla e rimane sia elegante che sportivo allo stesso tempo certo ci piace ed è veramente un orologio incredibile finora penso il mio preferito in assoluto pensa un po anche meglio delle just successivamente che belle tutte tre fila faccio vedere un'altra bomba sono passato a un orologio cercavo un orologio un po più elegantino perché mi mancava e di forma e ho comprato questo quartier tank acciaio purtroppo è un quarzo ma non fanno il modello large con il calibro meccanico ma sai guarda sinceramente io il quartier tank lo considero valido anche al quarzo proprio per la sua storia per quello che rappresenta per come è nato anche sì ma per quello che più che altro rappresenta oggi no sì al quarzo non comprerei mai al quarzo io piuttosto mi sparo in un piede però va bene manuale ci ha fatto fare una piccola incisione ho cambiato il cinturino perché mi piaceva di più questo qua in velluto che andava a richiamare le lancette e la corona blu non so se si vede anche questo al polso fa il suo ma è più pensato per un abito per un per un'occasione un po più elegante anche se con cinturino di altro tipo può essere anche usato in maniera un pochino più sportiva ma blu elegante no leggerissimo al polso veramente un bell'orologio secondo me promosso anche questo bella sfidza di orologi hai bravo poi passerei all'ultimo ecco fatto uno zenith l'ho visto del quintetto quintetto che è questo zenith il primero rainbow top anche questo orologio che ho ricevuto da mio padre 40 mm e chiusura dei tasti a vite resistente 100 metri e non è mai stata fatta una revisione adesso appena tornerò in italia la farò fare direttamente degli anni 2000 in zenith questo è il suo fondello si diciamo anch'io il diver così anche questo è usato mio padre come come io del resto gli orologi li utilizziamo sono fatti per essere utilizzati bravo il bello è questo e niente che c'è da dire gli indici e le sfere sono leggermente ingiallite dal tempo anche questo è un trizio come il submariner ecco il trizio come il submariner attenzione perché io c'avevo lo zenith rainbow diver non così più o meno di quegli anni lì e il mio aveva gli indici al trizio mentre sulle sfere c'è il super luminova era uno di quei momenti transizionali nei quali venivano utilizzati entrambi è così sul mio qui quindi lo dovresti vedere anche dal colore differente degli indici e delle lancette se sono tutti altrizio o no comunque se lo dice se lo fermi sul quadrante c'è scritto t su smade t però quello è scritto anche era scritto anche sul mio per gli indici altrizio però era super luminova o luminova non me lo ricordo le sfere e ho cambiato il cinturino perché il bracciale originale era veramente veramente pesante e così l'ho svecchiato un po' con questo ma sì con questo saffiano nero saffiano veramente bello piace più la vacchetta in ultimo un orologio che ho comprato un po' sull'onda del dell'entusiasmo un acquisto un po' compulsivo un'edizione speciale uno squale bello 15 21 cavoli bello watch your hands si chiama e è un'edizione limitata a 100 pezzi con l'artista second second notoriamente il logo di squale sta ad ore 6 in questo caso vediamo provo a avvicinarmi un pochettino in questo caso il classico logo con lo squalo viene spostato un po' più verso ore 3 tra ore 3 e ore 9 troviamo una linea che sarebbe praticamente una finta linea dell'acqua dell'oceano lo squalo che praticamente cerca o sta andando all'attacco diciamo della preda e la lancetta delle ore riporta il morso dello squalo è un'edizione 100 pezzi come ho già detto gli ho montato questo nato perché il suo bracciale maglia Milano era veramente veramente vistoso e ingombrante al polso non gli dava molta giustizia ci ho messo questo cinturino un po' più un po' più sportivo un po' più easy un po' più estivo diciamo dai mi trovo mi sto trovando molto bene lo utilizzerò a breve probabilmente lo porterò come in qualche viaggio per qualche immersione che sicuramente ci sarà nel corso dell'anno bravo questo è tutto eh ti mandiamo un caro saluto io Edoardo ciao Edoardo faccio un'ultima carrellata degli orologi e niente continua così grazie di tutto e a presto ci vediamo presto ciao cari ciao 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 non si capisce perché all'inizio ho detto cinque orologi più un extra potete dire sei orologi eravamo tutti contenti perché tutti e sei sono orologi che hanno ragione di esistere e di essere possieduti complimenti perché c'è un bel un bel botto di orologini sicuramente non ti posso dire nulla un paio sono ereditati però hai vinto non ti si può dire niente mi raccomando occhio a quel a quel trizio lì sul sullo zenith che non so se siano tutti al trizio quindi l'unica cosa che ti posso dire è quella lì poi anche il tank al quarzo ci sta e ci sta non lo vedo lo considero lo comprendo maggiormente per una signora un orologio al quarzo un tank al quarzo ecco magari uno passato di meccanica di orologi meccanici avrebbe preferito prenderlo al meccanico però ci sta un orologio al quarzo in tutta la collezione ci sta come al solito io non sono disposto a spendere tanti soldi per un orologio al quarzo e sicuramente quello lì costa tanti soldi io con quei tanti soldi per esempio avrei preso un orologio meccanico capito e ci veniva fuori sicuramente qualche altro bel pezzo da mettere lì assieme ai tuoi il brightling cronoma lì col bracciale volo ci piace tanto il quadrante verde no non mi piace tantissimo preferisco il blu che ho io d'altronde i gusti sono gusti però è sicuramente un bel orologio e mi fa quasi specie che hai detto che è il tuo preferito rispetto al déjà che il déjà è un bello orologio io ce l'ho al déjà mi piace poi dire preferito è sempre un po' pericoloso perché magari preferito ora questa settimana poi la settimana dopo preferisco quell'altro vabbè comunque dai belli orologi prossimo video buongiorno sono paolo da lugano dalla svizzera svizzera vi presento alcuni dei miei orologi il primo è un omega da tasca che apparteneva a mio nonno mamma mia complimenti poi ho questo corte bear che corte bear fattura svizzera che è stata assorbita negli anni 70 da omega questo orologio è degli anni 60 qui c'è un cover che è un orologio svizzero manifattura di chaffusa chaffusa dovevo se movimento età un pierre ball ma ball ma che appartiene al gruppo swatch movimento al mandato al gruppo swatch automatico ma non è vero claude bernard è una piccola manifattura del giura svizzero al confine con la francia claude bernard è il secondo marchio di edox claude bernard attualmente esiste la collezione claude bernard e sono la seconda collezione di edox edox fa orologi marchiati con quel proprio brand più questo qua che a un livello più economico io li ho visti e ce ne sono anche di carini di simpatici da tenere in considerazione è un po come rolex e tudor no qui dice edox e claude bernard automatico movimento sellita si abbiamo capito fissiamo un mido belluna belluna movimento età simpatico e un lui era movimento età è una piccola manifattura anch'essa del giura svizzero si conosciamo eh lui era va bene faccia qui c'è un tisso l'unico al quarzo che ho quarzo eccolo lì bello una lancetta che va a scatti e per finire questo citizen truiosa basta nome e cognome basta è un citizen pro master che è stato l'ultimo acquisto di quest'anno il marine simpatico ci piace ecco una panoramica la panoramica eccola lì tutti uguali ne ho degli altri che però non hanno troppo interesse va bene grazie va bene va bene grazie a te finito già due minuti il record dei marchi più strani ce l'hai ce l'hai e poi erano tutti molto simili tutti con questo quadrantone tutto quadrante senza lunetta a parte i due citizen suiose pro master che si elevano un po per differenza gli altri sembrava tutti la stessa roba c'è un po questo gusto così diciamo no claude bernard ball ma balman che hai detto che fa parte del gruppo swatch a me non mi risulta però posso anche sbagliarmi ballman e altri altri marchietti che non lui rard bravo si dai ti promuovo con un senso di sufficienza perché altro non so che dirti poi non è che ci hai spiegato da dove vengono perché li hai presi cosa ti piace cosa non ti piace sei stato nei due minuti bravo ma stavolta abbiamo esagerato nel senso negativo cioè troppo corto e con poche spiegazioni nome e cognome citizen suiose poi il silenzio assoluto osservare l'orologio che l'avremmo visto mille volte io osservarlo abbra abbra di qualcosa no prossimo video ciao davide sono marco da trieste complimenti per il tuo canale grazie grazie ti mando questo video che in realtà il secondo che ti mando dopo avertene mandato un altro dove ti mostravo un vecchio seico pulsar con energia cinetica orologietto da 50 euro che avevi abbastanza facilmente stroncato in favore di altri a energia solare e ti mando questo video perché ti mostro la mia collezione dopo tanti giri dopo aver avuto dopo aver scambiato almeno una dozzina di orologi dopo quel seico pulsar passai a un emilton mechanical quadrante bianco orologio che avevo preso a 200 euro su crono 24 per dirti e poi mi sono dato al vintage ho avuto diversi omega ho pensato se mandarti delle foto ma ho detto ma chi se ne frega ti faccio vedere quei pochi che ho e bon ho tre orologi e ti li mostro questo sono tutti e tre incedibili questo è il primo un lorenz un orologino a carica manuale degli anni 60 34 mm placcato guarda il suo fondellino 10072 con lorenzo orologino è stato il mio primo orologio vintage ha fatto una fioritura che mi piace molto nella sua semplicità 50 euro mi sono avvicinato a questo mondo e questo è l'orologio del mio matrimonio l'orologio che indosserò nel momento in cui ti scrivo siamo a fine marzo a giugno mi sposo e questo è l'orologino che ho promesso di indossare al mio ma con congratulazioni lo sappiamo tutti che il matrimonio poi è proprio ideutico al divorzio quindi non c'è un divorzio senza un matrimonio e quindi puoi cominciare a pensare anche a quello bravo fa specie cioè complimenti perché indosserai per il matrimonio un orologio da 50 euro ma cosa ce ne frega a noi bravo fai bene così l'importante è che sia bello vedere se sei contento te e che faccia la sua figura al polso e questo qua presumo la faccia no ora voglio vedere gli altri magari se è meglio indossare gli altri ma va bene comunque va bene questo lorenzino qua lorenzino lorenzino ci sono affezionatissimo poi ti mostro adesso questo omega automatico ecco scusa perché non indossi anzi questo omega al matrimonio che cioè a parte che è un giorno che ricorderai per tutta la vita no piuttosto che un lorenz placcato che è già placcato no anzi un bel omega così d'acciaio cioè omega de vil al matrimonio bello quadrante bianco bello semplice così perché non questo spiegamelo voglio sentire si master de vil referenza 168007 34 mm fondello logato si master con l'ippocampo ragionate bene su come facevano gli orologi omega de vil fondello si master cioè proprio veramente lo mettevano su quasi tutti i modelli praticamente la scritta si master del fondello e non è cioè non è sbagliato non è fuori luogo quel fondello lì è proprio che erano così doppia dicitura quadrante originale in condizioni spettacolari così come la cassa anche questo preso su crono 24 regalato a mia moglie corona originale movimento 711 il più sottile mai prodotto da omega mi è sempre piaciuto questo modello in questa referenza siamo credo fine anni 60 inizio forse anni 70 ma forse più fine anni 60 fibietta fibietta logata assolutamente non coeva come si dice sul canale ma insomma poco male e questo l'ho regalato a mia moglie ok e poi come avrai già intravisto ho qui il mio ultimo regalo un long jean che ho potuto prendere grazie a uno sforzo mio e di mia madre che mi ha sostenuto scatola assolutamente anche questa non coeva perché questo long jean è degli anni 60 e mi ha sostenuto 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 come dice l'estratto l'ho richiesto mi è arrivato tra l'altro con la data del primo marzo il mio compleanno referenza 8903 35 mm un 30 l questo è del 66 non hanno saputo dirmi a quale distributore fu affidato ma insomma hanno certificato dopo avermi richiesto tutte le foto del caso che è del 66 vediamo aspetta è raro è uno dei rari casi nei quali non c'è scritto fatturato a per esempio binda in caso di taglio oppure all'importatore italiano bla 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 è strano che gli manchi questa 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 specifica comunque un 30 l del 66 13 milioni era il seriale del calibro si se riesco a meritarmi un tuo toppino questo è il long jean a carica manuale 8903 che ho detto adesso faccio uno sforzo e prendo questo qui top grazie anche a mia madre corona logata 35 mm calibro che conosci benissimo 1966 quadrante originale che presenta una piccola imperfezione a ore 9 ma chi se ne frega la scatola non è degli anni 60 ho visto le scatole degli anni 60 ma chi se ne frega mi piaceva questa me lo tengo con con questa scatolina sul comodino volevo mostrartelo l'ho già mostrato sul tuo canale telegram mi è piaciuto un sacco alla fine l'orologio al di là di tutti i commenti delle opinioni che si possono fare devi sentirtelo tuo e poi anche spenderci qualcosa in più col vintage lo sappiamo le logiche sono diverse rispetto a quelli moderni ho fatto uno sforzo ho pagato forse più di quello che era legito ma ci tenevo e sono ampiamente soddisfatto e quindi questi sono i miei tre orologini vintage incedibili ti ringrazio per lo spazio sul tuo canale ti saluto come sempre love come dici tu in bocca al lupo buon lavoro grazie grazie per la tua passione per la condivisione che fai un saluto da marco da trieste ciao marco da trieste grazie mille grazie mille due tre orologini vintage incedibili questo abbiamo capito il discorso sull'omega lo devo ritirare perché se l'hai regalato tua moglie non puoi indossarlo al matrimonio va bene ma allora cosa lo metti a fare qua non è più tua di tua moglie vabbè scherzo però continua a non capire perché devi indossare il lorenz placcato al matrimonio quando hai quell'ongine 30 l lì che allora a questo punto è veramente la perfezione cioè anche più dell'omega mi viene da dire perché l'ongine è veramente l'orologio classico ad altri tempi per antonomasia al matrimonio con l'ongine 30 l poi ci tieni così tanto che lo terrai per sempre il ricordo di indossare il longine al matrimonio non ha uguali non è certo paragonabile a lorenz che tra l'altro è anche placcato come ho detto mille volte poi con la scritta lorenz che se ne va l'ongine è perfetto perché non indossi quello cioè ti devo dare uno scappellotto nel coppino per farti cambiare idea dai retta uno scemo mettiti il longine che ti dà più soddisfazione eh dai ti dà più lo devo dire ti dà più soddisfazione vai avanti così con il longine prossimo video ciao davide ciao eccomi qua daniele da mantola sono quello di un orologio all'anno e così via questo è il mio secondo video va bene e anche quest'anno premio compleanno mi sono fatto un regalo che ti faccio vedere vai faccio vedere rapidissima carrellata degli orologi già in mia collezione boom 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 mercier 42 in bronzo te l'ho già fatto vedere nell'altro video quindi andiamo velocissimi entra Hamilton entra matic va bene va bene cassa verde militare referenza un po' insolita poi abbiamo il nostro oris big clown anche questo già fatto vedere ma un attimo di gloria anche a lui in cassa bordo bordo e poi come vedi qua c'è un buco buco che bisognava riempirlo ed ecco qua l'acquisto di quest'anno cos'è cos'è rollo di tamburi longin flagship fasi lunari bravo questo l'ho visto presentato dal video in un video di di Giacomo in negozio e mi è piaciuto moltissimo e anche il fondello guarda che bello tutto smaltato e questo va a far parte della mia piccola collezione bravo bene anche per il 2024 abbiamo dato basta ora aspettiamo il 2025 chissà cosa ci sarà adesso lo mettiamo qua oh veramente di di parola sei ecco qua qua in maniera ecco qua bene 2025 mi piacerebbe un orologio di forma quindi qualche consiglio magari sul budget che vedi ecco magari dovresti convincere ecco il nostro amico Giacomo anzi lasciamo stare Piero ti chiedo di convincere il nostro amico Giacomo magari di prendere in concessione Nomos perché c'è un title che veramente mi mi stuzzica ciao 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 sì ma forse una cosa che non avete capito quando fate le domande ma perché non prendi prendi questo prendi quello cioè la cosa non è univoca non è che se io Davide Cecchini domattina voglio avere la concessione di un marchio telefono me li mandate e me li mandano no non funziona così perché se c'è un altro rivenditore nell'arco di 20 25 50 km a seconda della politica aziendale non me lo danno il marchio a me c'è già là non me lo danno a me quindi è inutile che dire prendi questo prendi quello prendi quello ci sono delle dinamiche dietro anche di politica nel senso che magari uno è stato concessionario anni fa poi l'ha persa e non la puoi più prendere perché magari a capo c'è sempre quel direttore antipatico con cui hai litigato quindi non la puoi prendere c'è tutto un mondo dietro non è che prendi Nomos prendi questo prendi quell'altro prendi Squale prendi que non funziona così cioè una volta per tutte bello bello quell'ongin lì fa parte della famiglia flagship come si fa a non volergli bene nel 54 nasce quella famiglia lì con quel bel medaglione smaltato dietro lì a me le fasi lunari non mi interessano proprio non fa per me ma per fortuna ci sono persone come te che amano gli orologi così con queste belle fasi lunari ora quindi se poi ti è scattata la scintilla nulla da dire poi sei proprio uno di quelli pitigni precisini un orologio all'anno se hai già pensato al 2025 ma ora no cosa ti posso consigliare un orologio di forma ora che siamo nel 2024 o giugno mancano sei mesi e più al 2025 magari escono anche altri orologi interessanti un orologio di forma nei 2000 3000 euro ce ne sono anche tanti la stessa Longin li fa oppure non ti posso dire le cutre perché è fuori budget però sarebbe quello non so facciamo che ci risentiamo e poi te lo so ridire perché non c'è nemmeno voglia di stare a pensare all'orologio di forma a 3000 euro non c'è nemmeno voglia va bene poi non è che devo sapere tutto io va bene ragazzi io adesso devo andare a vedere i gattini su instagram lo sapete che a una certa ora io vado a vedere i video dei gattini su instagram che fanno miau 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 e io mi metto lì e mi diverto mi rilasso passa il tempo capito vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e gli orologi e il presentatore e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love alla prossima le balli